Vieni a tutti, eh! Tutti! E' un po' di bottiglie! Anche lo facciamo! 30 secondi in questo momento della malatea! Vieni dire che tutto il mondo, anche attraverso l'Italia, tutto il mondo ci sta guardando! Ecco che ci sono 20 secondi! E ci separiamo da 18 e 18! Preparando le bottiglie! Ci siamo tutti! Vieni a dici! Vieni a dici! Espiano! Vieni a dici! 1! 8! 7! 3, 5, 4, 3, 2, 1 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 3, 5, 6, 7, 9, 10 3, 5, 6, 7, 10 3, 5, 6, 7, 10 3, 5, 6, 7, 10 3, 5, 6, 7, 10 3, 2, 1 Y-N-C-A 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 Y-N-C-A